Salve a tutti, benvenuti in un nuovo video. Torniamo a parlare di campioni, oggi ringrazio il buon Urcol, mio fedele socio, per aver prestato l'account e farvi così vedere due costruzioni davvero molto molto simpatiche e interessanti di un campione. Come sapete oggi parleremo di Kaimar e dei tanti modi in cui può essere buildato e sfruttato e quindi come al solito non perdiamo tempo e cerchiamo di capire che cosa fa costui. Quindi intanto quanto bello hanno fatto il principe e ha perfettamente senso insomma c'è il capo di tutti quanti quindi deve essere un figo. Allora con la sua skill primaria attacca tutti i nemici, piazza un buff veleno grosso per un turno se questo attacco è decisivo e già questa è una 1 di tutto rispetto. Attacca tutti quanti se questo colpo è critico tutti verranno avvelenati. Inoltre come sapete tutti quei campioni che attaccano a dare quel loro skill primaria possono essere potenzialmente idonei per un set stordimento cosa che vedremo poi. Con la sua seconda skill invece attacca tutti i nemici, rimuove tutti i buff e quindi piazza un debuff sonno per un turno. Attenzione all'ordine in cui succedono queste cose quindi prima attacca tutti poi rimuove tutti i buff e infine piazza un sonno per un turno su tutti quanti. Quindi attacca tutti quanti, possono attivarsi 3000 buff sugli avversari insomma, lui pulisce tutto e poi va a mettere a dormire. Questa è una cosa veramente molto molto utile per contrastare in arena quei giocatori avversari che utilizzano i set immunità. Quindi io voglio cercare di provocare gli avversari per controllarli in qualche maniera ma non posso perché hanno un buff, blocco debuff addosso. A Kaimar non importa perché Kaimar toglie tutto e poi mette a dormire e quindi controllerà effettivamente tutti quanti. E infine, altra skill potentissima, quindi due strumenti diversi nello stesso campione, resetta i tempi di ricarica di tutte le destrezze alleate, riempie del 20% il contatore di turno di tutti gli alleati ad eccezione di questo campione. Ogni 6 turni, resetta tutto, quindi non è come Rinnegata che toglie due turni dai tempi di ricarica oppure come Guarda Tormenti che toglie un turno soltanto. Lui resetta completamente tutto e questo lo rende davvero davvero potente per le speedrun. Ora, sorge un piccolo problema però su questo campione qui perché se io voglio sfruttare la sua capacità di controllare prevalentemente in arena, anche perché ha un'aula spaziale per l'arena, dovrò costruirlo in una determinata maniera. Se invece voglio sfruttarlo nelle speedrun, dovrò per forza di cose costruirlo in maniera diversa. Quindi oggi andremo a vedere due build e alla fine di tutto vi darò la mia impressione su quale delle due può essere la più corretta se avete un Kaimar soltanto. Vediamo rapidamente la build che ha fatto il buon Urkon del Kaimar lento, vale a dire quello per le speedrun. Questa build è pensata solo ed esclusivamente per resettare, non deve fare altro in realtà. Quindi basta dargli la velocità giusta e il lavoro è fatto. Tecnicamente la build è finita qui. Però Kaimar ha anche altre caratteristiche che possono tornarci utili. Ha la possibilità infatti di avvelenare con la sua skill primaria che può sembrare poco ma in realtà fa veramente, veramente parecchio. Pertanto, oltre a dargli la velocità necessaria, gli ha dato il tasso sufficiente perché lui faccia praticamente soltanto critici. Perché se vi ricordate quella skill diceva che avvelenava solo se fa colpi critici. Quindi tasso quello che serve. E infine una precisione sufficiente per lavorare con le roccaforti in cui vogliamo utilizzarlo per fare le speedrun. Lui gli ha dato anche un set stordimento che ha perfettamente senso. Perché bisogna anche rendersi conto che non sempre tutto va perfettamente bene nelle speedrun. Magari il campione che doveva ridurre la difesa non riesce a farlo perché viene resistito. Perché ci sono 3000 cose che possono far andare tutto storto. E quindi a che cosa serve una speedrun se non può andare sempre bene? A niente se i miei campioni muoiono. Quindi se ho perso. L'obiettivo di una speedrun è chiudere velocemente nel 95-99% dei casi e poi giocarsela quell'unica volta in cui le cose per qualche motivo vanno male. E quindi inserire un set stordimento su di lui per andare a gestire quelle situazioni in cui le cose vanno effettivamente male ha perfettamente senso. Lui gli attaccherà solo ad area di fatto sia con la skill che addormenta che con la skill primaria. E di conseguenza contro le ondate ci saranno più occasioni in cui avrà la possibilità di stordire qualcuno. Se le cose sono andate male appunto perché magari le due guardie reali non hanno shotato tutti o 3000 motivi. Ecco che potrebbe avere perfettamente senso costruire questo campione con un set stordimento. Anche perché avete notato che non è che abbia tutta questa velocità. Ha 148 di velocità perché lui deve partire per ultimo. Quindi tutti i componenti del team devono fare le cose in sequenza. Ci sarà Abba del Khazar che mette i verini su tutti quanti. Il campione che riduce la difesa. Le due guardie reali che schiantano. Solo dopo tutto questo Kaimar dovrà resettare per replicare tutto un'altra volta. Ecco quindi è importante che sia lento ma soprattutto che sia lento il giusto. Quindi senza perdere ulteriori tempo perché delle maestrie è veramente poco poco senso parlare. Perché in realtà non servirebbero neanche in questo tipo di build. Andiamo a vedere che cosa succede direttamente contro il drago. Drago 20 quindi che è ancora la fase che conviene sviluppare di più. Insomma che conviene proprio fare in termini di speedrun con maggiore qualità. Allo scopo di formare tanti tanti pezzi. E questo ci torna utile nei tornei in realtà. Soprattutto nei tornei è estremamente importante avere un team che riesce a macinare il drago in pochissimo tempo. Perché se ci mettete 5 minuti ma anche meno, anche 3-4 minuti rischiate veramente di essere fuori dai giochi. Se il vostro obiettivo è vincere i tornei. E quindi speedrun uguale ancora. Drago 20. Insomma roccaforti 20. Tutte queste roccaforti in cui posso ancora utilizzare tutto il potenziale di campioni come guardia reale. E così via. Allora ci siamo portati dietro Badai-Kasar perché aumenta il danno delle nostre guardie reali quando l'obiettivo è avvelenato. Ed è interessante che non è necessario che questo veleno venga per forza messo da Badai-Kasar. E quindi ancora una volta ci torna utile il veleno di Kaimar. Poi ci siamo portati dietro naturalmente Duck per la sua capacità di mettere riduce difesa in questo caso. Riduce attacco ci importa fino a un certo punto. E poi le due guardie reali sia per schiantare le ondate che per abbattersi contro il drago stesso. Un minuto e 0,2 secondi. Si può fare anche meglio di così. Il buon Urkon è riuscito a fare 49 secondi. Proprio con questo team il tempo oscilla tra i 50 secondi e il minuto. Insomma quindi un minuto e il drago se ne va senza alcun problema. E grazie a Kaimar perché ci ha permesso nella seconda ondata di replicare esattamente tutto quello che era successo durante la prima. E arrivare così di conseguenza dal drago in un colpo solo. Questa strategia si può utilizzare praticamente in tutte le roccaforti se inserito nel team corretto. Si può utilizzare tranquillamente anche dal Cavaliere Pirico 20. Sebbene sia rosso non è un problema perché tanto in quel caso viene fuori solo il bene della sua capacità di esattare. Si può utilizzare anche dal Golem sebbene con un po' di circospezione. Visto che fare molti molti danni in un colpo solo al Golem implica doversi prendere la mega mazzata ogni tanto. Quindi bisognerà anche lavorare un po' sulla sostenibilità del team. Ma comunque in tutti questi team può fare alla grande. La sua build è tremendamente semplice. Vi basta che sia l'ultimo a partire di tutto il team. Lo dosate un pochettino in termini di velocità appunto. E vedrete che le vostre run si accorceranno enormemente. Tuttavia questa non è l'unica maniera in cui si può costruire Kaimar. Infatti è possibile sviluppare anche una build da arena. In questo caso le statistiche cambiano completamente. Perché avrà sempre bisogno di velocità, della corretta quantità di velocità. Avrà sempre bisogno di precisione ma in quantità diametralmente apposta. Infatti avete visto che abbiamo 263 di velocità e 483 di precisione. Queste sono le uniche due statistiche che ci importano in realtà. Non ci importa più che avveleni. Sebbene comunque possa valere la pena di dargli un po' di tasso. Perché comunque il suo danno non è malvagio. Non è malvagio sia con la 2 che con la 1. Potrebbe aggiungere quel pochettino di danno che magari vi serve per togliervi dai guai. Quindi un pizzico di tasso decisivo io vi consiglio sempre di darglielo. E infatti Urkona ha fatto stravena a darglielo. Ma comunque anche se non potete non importa. Perché il suo compito è essere veloce, addormentare tutti quanti. E poi se le cose vanno male resettare tutto e concedere a tutto il nostro team una seconda chance. Questo è il suo ruolo. Allora 263 di velocità è un valore preciso per questo Kaimar. In modo da collegarsi perfettamente con la giudicatore che ha costruito Urkon. Con la velocità di giudicatore. Con questa velocità lui sicuramente partirà per secondo. Indipendentemente dalla velocità avversaria. E quindi l'ordine di combattimento sarà giudicatore che aumenta il contatore a tutti quanti. Kaimar mette tutti a dormire strippando tutti i buff avversari. Poi ci sarà Madame Serry su chi per essa insomma che andrà a ridurre la difesa e l'attacco. E infine il nostro Newker di turno a schiantare bellamente tutto il team avversario. Molto molto semplice come costruzione però estremamente efficace. E secondo me è uno dei campioni migliori a fare questo tipo di lavoro. Perché lui appunto non ha paura dei set immunità. Che sono una mina vagante in realtà perché voi non potete sapere che i vostri avversari avranno quel tipo di set finché non avete iniziato la battaglia. E se non avete un campione come lui e avete iniziato la battaglia e il vostro avversario ha questi set in genere è troppo troppo tardi. Dovete per forza arrendervi. Oppure cambiare tutto il team che utilizzate insomma ecco quindi lui vi risolve veramente un sacco di guai indipendentemente da quello che trovate. L'unico suo punto debole è l'affinità in realtà nel senso di non essere del vuoto perché se fosse del vuoto non farebbe mai colpi deboli. Se non fa colpi deboli è sicuro al 100% che rimuoverà tutti i buff e anche andrà ad addormentare. Quindi è giusto che sia così perché se fosse del vuoto sarebbe veramente troppo troppo forte sarebbe inarrivabile ma vi assicuro che è già così. È tantissima roba. Andiamo a vedere un attimo le maestrie che gli sono state date. Quindi ancora una volta in questo tipo di build di tipo assistenza ha poco senso, ha assolutamente poco senso andare a sfruttare il percorso attacco. Gli abbiamo dato quel poco di tasso che serviva per sfruttare un po' i suoi moltiplicatori ma non è una parte centrale su cui concentrare la build. Conviene appunto dargli un po' di resistenza in più, conviene limitare i danni che può prendere dai colpi critici e in arena si prendono praticamente soltanto colpi critici. Conviene anche inserire questa maestria qui che ci dà la possibilità di piazzare Sanguisuga ogni volta che i nostri avversari si trovano sotto uno di questi debuff e lui mette il sonno. Quindi ha perfettamente senso e ha perfettamente senso anche andare a contraattaccare perché comunque un minimo di danno gliel'abbiamo dato ma anche di farlo se i nostri alleati subiscono qualche tipo di controllo. Sono tutte cose veramente veramente super buone. Per lo stesso motivo è anche importante la parte destra del percorso assistenza. Abbiamo detto che lui ha bisogno di precisione per lavorare quindi ci prenderemo tutte le maestrie che ci permettono di aumentare questa precisione. Anche tradizioni d'acciaio. Se impiegate tanti set precisione oppure percezione ad esempio che vi super consiglio buttate dentro tradizioni d'acciaio avrete ancora più precisione a disposizione. E infine ultima per importanza chiudere con occhio d'aquila. Questa è fondamentale davvero perché 50 punti di precisione che vengono fuori così dalle maestrie sono veramente veramente tanti. E soprattutto magari all'inizio quando non avete ancora la sala maggiore sbloccata al massimo avere tutta questa precisione semplicemente delle maestrie vi cambia la vita davvero 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 tanto. Quindi ancora una volta penso che il modo migliore per mostrarvi le sue capacità sia direttamente sul campo di battaglia. Iniziamo subito da un avversario ostico ok? Ci troviamo contro Nekret che ha la possibilità di mettere il blocco debuff su qualcuno. In questo caso il Rotos di turno. Come fare? Quindi abbiamo la possibilità di vincere contro un team del genere? Assolutamente sì. Basta semplicemente andare a rimuovere i buff altrui. Quindi il buon amico Kaimar non soltanto andrà ad addormentare tutti quanti ma prima rimuoverà tutti i buff. Ne consegue che Rotos sia addormentato nonostante avesse a disposizione un buff blocco debuff. E adesso è soltanto una questione di fare molto molto male. Dovremmo andare a puntare qualcuno innanzitutto. Quindi io consiglierei di partire da Nekret visto che è colui che mette la protezione alleato. Altrimenti rischiamo veramente di essere nei guai. Proviamo? Ok ok. Resta in piedi Rotos che è un problema. È vero. Ma ricordiamoci che il buon amico Kaimar non solo va ad addormentare tutti quanti ma concede a tutto il nostro team una seconda chance. E vedete che adesso Madam Series può di nuovo utilizzare la sua destrezza che va a mettere le luci difesa oltre a togliere i buff. Possiamo di nuovo pompare il contatore con giudicatore e possiamo di nuovo sfruttare la skill più potente del nostro folly. Speranze per l'avversario 0. Grazie a Kaimar però. Se avessimo utilizzato un qualche altro tipo di campione come per esempio Mauli che ne so che utilizzo anche io in arena intanto non avremmo provocato Rotos e se Rotos prende un turno diventa davvero 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 pericoloso. Ma soprattutto avremmo dovuto sfruttare il primo turno per uccidere Nekret e possibilmente anche gli altri come è successo. E poi avremmo dovuto comunque vedercelo con Rotos. Avete visto che ho preferito non attaccare direttamente Rotos. Avrei potuto farlo ma non ne vale la pena perché lui è sotto la protezione al lato di Nekret e vi assicuro che non muore. Non muore per quanto voi possiate fargli male è molto difficile senza prima stendere il vero e proprio nemico che è Nekret. Quindi abbiamo vinto sicuro al 100% contro un team decisamente molto molto più potente del nostro. E ritengo che sia veramente un ottimo utilizzo di questo campione. Ma andiamo a vedere un po' che altro si può fare. Quindi vediamo un altro team simpatico da schiantare. Anche questo qui potrebbe essere interessante, molto molto difensivo. Questo potrebbe essere già un po' più pericoloso perché ci sono ben due campioni rossi. Essendoci due campioni rossi è molto probabile che lui faccia qualche colpo debole. Vediamo. Allora, beh in realtà lei non è che abbia fatto colpo debole su di lei semplicemente ci ha resistito. Può capitare una volta ogni tanto, pazienza. Ok, allora adesso direi che possiamo puntare il buon Brago. Tanto gli altri moriranno senza nessun problema. Lui, uh, lui era imparata repentina, maledetto. Vabbè, vabbè, capita. Capita, capita. Allora, rianimiamo subito il nostro folicaduto e andiamo a liberarci, in teoria, sì, definitivamente, del nostro avversario. Quindi ancora una volta addormentiamo tutti quelli che servono, tutti quelli che devono dormire, messi a dormire, senza tutti i loro buff a proteggerli e vedete che l'unico risultato che potete ottenere è vittoria. Se poi, appunto, non avete a disposizione ancora un nuker definitivo come può essere questo folio oppure una trunda o qualsiasi altro nuker veramente, veramente forte, Kaimar è uno dei pochissimi campioni che vi dà concretamente la possibilità di sfruttare una seconda chance. Perché non soltanto va a resettare tutte le skill, ma dà un bel po' di contatore con quella skill lì. Quindi va a pompare i vostri campioni, permettendo magari al giudicatore di prendere immediatamente turn e quindi utilizzare di nuovo la sua skill che riempie il contatore, a Madame Serres di andare a rimuovere tutto di nuovo, qualsiasi cosa sia successa nel frattempo. Quindi è proprio un campione che vi spiana la strada per vincere in arena e fare veramente, veramente bene, anche ad altri livelli. Quindi, come vale la pena costruire il vostro Kaimar? Siamo tornati a casa, intanto. Avete visto che le due build sono completamente diverse e soprattutto non si può impiegare un Kaimar da speedrun per fare il lavoro dell'arena e viceversa. Dovete fare una scelta. Cosa vale la pena di fare? Allora, secondo me, quello che vale la pena fare è sfruttarlo in arena. Se ne avete soltanto uno, il secondo potete impiegarlo, se volete, nel speedrun. Perché Kaimar non è l'unica campione che vi permette di fare le speedrun, in realtà. Potete tranquillamente utilizzare anche altri campioni per farlo. E uno di questi è, secondo me, la nostra amica rinegata. Rinegata non serve neanche svilupparla più di tanto, non serve neanche che abbia tutte le sue statistiche, non serve che abbia maestrie, non serve che sia al 60. Non deve avere niente di particolare. Deve avere solo la velocità sufficiente per lavorare e i tomi, soprattutto. Ma sono tomi rari. Quindi, se avete un Kaimar soltanto per l'estrema potenza che ha in arena, per l'estrema efficacia che porta in arena, il mio consiglio è usatelo lì. Usate Kaimar in arena, fatevi un piacere. Sfruttate al massimo la sua aura, perché non vedrete un'aura migliore della sua, finché non metterete le mani sul giudicatore, e deve passare un gran bel po' di tempo. Sfruttate il suo potenziale per controllare gli avversari, indipendentemente da cosa possono avere addosso. Perché possono avere addosso scudi, possono avere addosso blocco debuff. Non è un problema, Kaimar spazza tutto, spazza tutto, non ha paura di niente. È un ottimo, ottimo davvero campione, da questo punto di vista. E le speedrun sono una cosa fantastica, sono una cosa da fare, sono un obiettivo, ma non sono per forza di cose. Insomma, Kaimar, ecco, fatemi dire così, Kaimar non è l'unico campione che vi permette di fare una speedrun con successo. Vedete? Anche qui siamo contro il Drago 20, sempre uguale a prima, sono passati un minuto e quindici, un minuto e venti, quello che sarà nel momento in cui il Drago prende turno, adesso è morto malamente e comunque è andata. Un minuto e venti, di là un minuto tondo tondo, cambia molto? Non cambia molto. Cambia fare il Drago in tre minuti, in due minuti e mezzo, tre minuti, quello è tanto tempo. Non cambia farlo in un minuto e venti. È comunque un tempo che vi può andare bene per partecipare ai tornei e magari anche per vincere. A me capita abbastanza spesso di vincere tornei del Drago se spingo un pochettino di più. Sfruttate tutto il suo potenziale in arena. A me è il campione che ha cambiato la vita. Ho avuto la fortuna di trovarlo relativamente presto. L'ho sbattuto in arena in un team che dove c'era Kaimar, Farmacista, Zargala e Kael e mi ha teletrasportato in Oro 4. Ma proprio nel giro di tre giorni, dopo la fine della sua build, dopo aver terminato la sua costruzione, mi sono trovato da giocare in Argento 2 e Argento 3 a giocare in Oro 4 stabilmente tutta la settimana e restarci soprattutto perché sono sei mesi che non scendo al di sotto di Oro 4. Quindi davvero, fatevi il favore, utilizzateli. Ah, altro discorso importante, i Tomi. E anche qui dipende molto dall'utilizzo che ne fate. Quindi se l'ho utilizzata in arena, sì, vi servono tutti. In particolare sulla seconda skill perché può farla ogni tre turni quindi diventa molto molto pericoloso. Si può strippare tutti quanti e metterli a dormire ogni tre turni. Ma anche può essere utile forse sulla terza anche se devo dire che non avete sei turni come non ne avete sette. Insomma, ecco. Quindi potrebbe non essere indispensabile. Qua invece è molto molto utile. Può funzionare anche senza, per carità. Può funzionare completamente senza Tomi, questo campione. Questo danno extra non vi interessa più di tanto. Questo danno in più non vi interessa più di tanto. Ogni cinque turni può andare bene se siete sicuri al 100% che vi basta un turno per fregare l'avversario. Allora nessun problema. Potete non dare proprio i Tomi a questo campione. Altrimenti questa è l'unica skill che merita per l'arena. Mentre per il discorso speedrun proprio non ha bisogno di Tomi. Se fa questa cosa ogni sei turni chi se ne, anzi, meglio perché utilizzerà di più la skill primaria andando ad avvelenare maggiormente ma soprattutto voi avete bisogno di fatto che lui resetti dopo la prima ondata. Nel momento in cui lo fa il suo beneficio grossomodo va a mancare. Viene a mancare. Ecco. Quindi se lo fa ogni sei turni o ogni sette turni dopo averlo fatto la prima volta smette di essere importante. Quindi un'altra cosa a favore di questo campione se gli date i Tomi perché potete farlo fatelo altrimenti avete comunque un ottimo ottimo campione per le mani. Detto questo raga il video finisce qui come al solito vi aspetto qua sotto con i vostri commenti con il vostro parere con le vostre domande con tutto quello che vi pare. Lasciate un mi piace se avete gradito mi raccomando ringrazio ancora il mio socio per avermi prestato l'account e avervi mostrato insomma queste build super interessanti iscrivetevi al canale mi raccomando cosa super importante accendete la campanella e anche voi potrete essere sexy come il nostro principe e come dico sempre siate furiosi ma rimanete bravi grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.